L'euforia nel post-cara qui a Conversano, siamo con tre dei protagonisti, partiamo da te Umberto Caruso, primo posto in classifica, 12 punti guadagnati, quest'oggi è doppietta personale per te, finalmente ti sei sbloccato anche nel campionato di Serie B. Sono contento di essermi sbloccato, soprattutto per aver contribuito alla vittoria della squadra. Grazie, andiamo da Vincenzo Di Cristinzi, quest'oggi davvero un secondo tempo importante da parte tua, hai dato il tuo contributo, sei entrato in campo con un spirito volitivo e ci hai davvero messo tanto del tuo. Sì, diciamo che ho sofferto un pochino all'inizio in virtù dell'infortunio che ho avuto all'inizio stagione, però adesso stiamo recuperando, mi sto allenando discretamente bene, sono contento della prestazione ma più che altro sono contento che abbia portato a casa altri tre punti e quindi proseguiamo il nostro cammino in campionato sperando di fare sempre meglio. Leo Melfi, davvero una grande prestazione della tua squadra, siete il miglior attacco e la migliore difesa di questo campionato, chiedo la stessa cosa che ho chiesto anche al mister Scarpitti, secondo te si è abbassato il livello di questo campionato o è davvero questi Serna che davvero deve iniziare a essere una delle favorite per questo campionato? Ma guarda, non ti so parlare di chi sia la favorita, sicuramente non si è abbassato il livello perché un sacco di compagini sono imbottite di stranieri e di conseguenza noi stiamo lavorando bene sin dall'inizio preparazione e speriamo di continuare a lavorare bene, si è creato un gran gruppo e niente, speriamo di dare il massimo partita dopo partita e se continueremo così ci toglieremo belle soddisfazioni. C'è qualcosa che vuoi dire ai tuoi compagni di squadra, a questo affiatamento che si sta creando dopo le prime quattro giornate di campionato? Mi metto in difficoltà, però non so che posso dire, sono contento comunque di giocare con giocatori del loro calibro e spero di dare il massimo insieme a loro e che rimaniamo comunque uniti fino a fine campionato per toglierci, come ho detto prima, un sacco di soddisfazioni. Vincenzo, una battuta, l'ultima battuta al volo con te, la prossima è in casa contro il Futsal Canosa, ti aspetti il pubblico delle grandi occasioni qui al Palafraraccio, c'è voglia di far riempire quel palazzetto? Speriamo, speriamo, anche perché giocare in un palazzetto cremito, prima di tutto da motivazione, da entusiasmo, sia alla città ma soprattutto da entusiasmo a noi ragazzi che quando entriamo vogliamo sempre dare il massimo, il 110%, però diciamo che nei momenti di difficoltà, quando c'è il pubblico che ti sostiene, sicuramente è una bella sensazione, una bella emozione. Quindi mi auguro e soprattutto faccio un invito alla cittadinanza di Sernia di venirci a vedere sabato prossimo in casa con il Canosa.